Maria Flora, io vorrei dirti che so di essere stato il miglior marito del mondo, ma l'insieme non è andato male, no? Io sono un vecchio amico, un vecchissimo amico. Io ero un amico di sua moglie. Uno dei suoi primi fidanzati? No, sono stato uno dei suoi, no, io sono stato l'unico. Io e Flora abbiamo continuato a frequentarci in questi quarant'anni, ci vedevamo regolarmente. Quanto spesso? Ai cambi di stagione, no? Come ai cambi di stagione? Quattro volte l'anno. E lei mi giura che non c'era? E allora che facevate? Parlavamo. Di letteratura, arte, di lirica. Lirica. Ma è che parliamo di due donne diverse? No, la stessa donna, ma con tanti interessi, con gusti e opinioni, bisogni diversi. Lei ha una bella faccia tosta, sa. Ma veramente mi sta descrivendo mia moglie. Noi avevamo soltanto un rapporto di amicizia, non riesco a capire perché non ce la fai ad accettarlo. Ma tu veramente pensi di essere senza colpa solo perché non te la sei portata a letto? Come ti permetti? È una buttata, no? È imbrogliato per quarant'anni. Ma tu veramente stai amando così la donna che ti è stata fedele tutta la vita? La verità è che tu l'hai amata da giovane e hai continuato ad amarla. Io ero soprattutto un suo amico, un vecchio amico sincero e leale. E se tu hai fatto qualcosa che possa ledere la sua memoria, io devo saperlo. Pensi che solo tu e la tua Flò vi divertivate alle spalle dei vostri coniugi? Che cosa? Quei giorni perduti a rincorrere il vento A chiederci un bacio e volerne altri cento Un giorno qualunque li ricorderai Amore che fuggi da me tornerai La vita si misura in sentimenti, emozioni, ricordi E anche i rimorsi e i rimpianti Non puoi dire quattro volte là, nei gambi di stagione Che cos'è un armadio?